Stavano viaggiando su una barca in difficoltà quando, a soccorrere quattro persone, è intervenuta la guardia costiera di Crotone. L'unità si trovava a circa un miglio dalla località di Marinella del comune di Isola Caporizzuto, quando i naviganti hanno avuto una grave avaria al motore con l'immediato arresto dell'imbarcazione. A causa della corrente e della risacca, la barca si è avvicinata pericolosamente alla vicina battigia e ad un tratto di scogliera. Gli occupanti hanno così allertato i soccorsi tramite il numero blu 1530 della guardia costiera. Ricevuta la segnalazione, è stato disposto l'invio del mezzo veloce della guardia costiera GCB 145, dislocato a Crotone, che ha soccorso i diportisti, consentendo anche il ricovero dell'imbarcazione nel porto vecchio di Crotone.